Ciao ragazzi, vlog post Milan Cagliari 3 a 1 Innanzitutto volevo ricordarvi che da settembre per i prossimi tre anni la Champions League sarà un'esclusiva Megaset Premium Passiamo alla partita Striscione eloquente in curva sud Game over, insert coin and save AC Milan Da notare la pronuncia in inglese E sono autodidatta eh Anni e anni sugli uoporn non sono serviti a qualcosa Nei primi minuti gioca meglio il Cagliari ed infatti Zeman è molto felice di questo Al sesto gran tiro di Sao ma la palla esce di... di un poco Piano piano il Milan si sveglia Al ventunesimo arriva il gran gol di Menes che si inventa un tiro a girare sul secondo palo Ma vai che c'era la fatta a calcio, vai Per il resto pochissime occasioni da gol sia da una parte che dall'altra e finisce così un primo tempo abbastanza noioso Prima di iniziare a parlare del secondo tempo volevo ricordarvi che da settembre per i prossimi tre anni la Champions League sarà un'esclusiva Megaset Premium Inizia il secondo tempo e dopo pochi minuti contro piede del Cagliari Farias prima si beve Mexesse e poi col piatto in sacca alle spalle dell'incolpevole Diego Lopez Il Cagliari trova quindi il gol del pareggio anche meritato e Zeman può finalmente sorridere Al quarantanovesimo calcio d'angolo per il Milan lo batte Menes il cross al centro arriva Mexesse tira e segna Due a uno per il Milan Ma vai che c'era la fatta a calcio, vai Cioè non è che è un Mexesse o sempre Menes che ha battuto il calcio d'angolo quindi assist più uno Buttalo via Al settantesimo esce Honda, fischi impietosi per lui ed entra Cerci Lo stesso Cerci dopo pochi minuti viene esteso da Cepitelli in piazza Duomo ma per l'arbitro non ci sono dubbi Rigore per il Milan Batte Menes e in sacca Ma vai che c'era la fatta a calcio, vai Negli ultimi minuti ovviamente il Cagliari si riversa tutti in avanti Per il Milan ci sono ampie praterie, ettari di campo da gioco Ma ovviamente non riesce a fare il quarto gol né con Cerci né con Pazzini Finisce quindi la partita 3 a 1 per il Milan Strano che sia uscito un over nelle partite di Zeeman Chi l'avrebbe mai detto? Ragazzi il vlog finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un bel like Se non siete ancora iscritti iscrivetevi cliccando qui Se non l'avete ancora visto vi lascio anche il link per vedere il mio ultimo prank Dove sono andato in giro a fare scommesse assurde con la gente Ragazzi vi saluto, ci vediamo presto con un altro vlog, un'altra parodia, un altro prank Ma prima di andare via vi ricordo che da settembre per i prossimi 3 anni la Champions League Sarà un'esclusiva Mediaset Premium Eccezionale Ti ne intendi del campionato del Kuzbekistan? No Che partite giochi? Eh no, io mi piace spaziare Parca puttana Nagatomo Play Solita simpatia giapponese Grazie a tutti